buongiorno ragazzi una nuova giornata nuova partenza direzione darling salutiamo dove abbiamo trascorre la notte ciao ciao una bella cirata la soprattutto il tramonto è la spiaggia di Porto Palmas ecco da giù che non c'è nessuno è arrivata due persone ciao Porto Palmas non è male certo non è male qua perché ciare vicino al mare anche c'è la piatta cimento c'è anche spiaggia la giù guarda questo è veramente è già la miniera miniera sì dove sta andando l'argento abbandonato veramente oh ciusa oh lalla eh ciusa ragazzi strada ciusa ragazzi guardiamo meglio la città pantassi qualcuno abitava ancora vero? sì c'era qualcuno che abita ma proprio poche persone eh sì questo è un villaggio che è nato perché qui c'era una miniera anzi eccola la miniera è questa che è stata dismessa e da quando la miniera non lavora più il paese una volta si è spopolato e non c'è più nessuno e questa miniera appunto eh da questa miniera si ristraeva l'argento e anche per questo che viene chiamata agenziera ragazzi adesso siamo qui in Paradise Park abbiamo già posizionato siamo venuta qua in formazione per chiedere dov'è la lavatrizia perché volevo lavare però comunque abbiamo visto la lavatrice dov'è la lavatrice dov'è comunque l'informazione è qua 24 ore costava 27 euro e questo la lavatrice peccato che non hanno l'asciugatrice che volevo lavare il nostro lenzuole però non so dove non so dove asciugare allora niente e questo è la Paradise Park c'è il posto per giocare i bambini là è grande comunque eh grande eccola qua e il mio amore è là che mi sta aspettando beh il tempo sta cambiando dal sole prima adesso c'è un po' di nuvolo e mi sembra che vuole piovere il camp per service è là questo è il posto per lavare i piatti e quello posto là quello due in fondo per lavare il pane e quindi andate abbastanza grande il piazzola volevo vedere la spiaggia e noi andiamo in spiaggia ragazzi qua c'è il rodinetto di acqua potabile e il bagno questo è buoni uomini e poi questo per ruotare il bc casette eccoci qua che anche sono per barbecue ragazzi guardate è abbastanza grande grandina lì piazzola qua vero amore mare 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 e qua e qua o 400 e già un chilometro già non andiamo a fare il bagno ragazzi vogliamo solamente vedere dove e ang layo guys grabe wala yung aahon ka sa dagat na basa ka pagdating mo sa camper tuyo ka na sa kalayuan manag non e qua hindi ilang 400 meters ha parang sembra 2 km non pio bio bio bero non pio bio bero no sta pio bendo ancora eh malapit na nakita ko ng dagat eh siamo vicini ragazzi bubistoyal mare ancora 500 m ragazzi ancora 500 m e già siamo nila puresta ayan naririnig lang yung mga kuliglig guys andami mga anahaw, kita n'ya yan yung mga anahaw ma da, c'è anche camper may camper din dito guys may natatano kong camper ma che bici amore in strada secondo te, k'è cosa che fatto questo? baboy ramo chingiali maga dito yung baboy ramo madami dito yung baboy ramo eko tanti camper qua eko siya moribati, non è 400 metri ragazzi 2 km e c'è anche i guardiano qua, guarda guardate ragazzi miau miau tignan n'yo guys di ba kinakain yan? ayan, pag binubuksa na kalamonyo yung dami talaga dito mga ganyan nakakapua eko ragazzi siamo tornati adesso ragazzi siamo entrati in campeggio ecco l'avete visto? e c'è la la paldina eccola la buongiorno ragazzi alba di agli 11 andiamo in alghero e facciamo passaggiata ragazzi la giornata non è proprio soleggiata però a me va bene così perché un po' di fresco non fa mai mare quando cammini quando vai insieme la paldina ah quella lì pineta è sì guarda che ci cani di guardia la palapitta con la paldina con la paldina potete mangiare un po' di farlo bella questa pineta qua quella strada la va in mare la spiaggia qua tante gente ragazzi tanta gente e oggi è domenica e stiamo parlando di seconda settimana di giugno ragazzi questa è la libera che lunga lunga spiaggia questa cosa è bella qua è bella 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 porto la prossima volta se ritorniamo qua questa potrebbe essere una una soluzione è bella è bella guardate invece di pagare guarda che quanti camper sei un leader sei un leader sta entrando un'altra camper avete visto? uso non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Ragazzi, ora stiamo camminando sopra le mura della città vecchia. E stiamo facendo proprio tutto il giro. Questi sono i bastioni che proteggevano la città naturalmente dagli attacchi dei pirati. Siamo sopra la torre di Sant'Elmo e da qui possiamo ammirare una delle piazzette che c'è sopra naturalmente il bastione. Eccoci qua. Qua ci sono i bastioni. C'è l'invocativa del porto. Eccoci qua ai canoni. Questa è la garetta di Guardia da dove si poteva controllare tutto quanto il porto di Aguero. E questa è una catapulca. Eccoci qua. Eccoci qua. Con le sue munizioni bombe atomiche. Con la sua carica. Questa catapulca è diversa rispetto a quella di prima perché non usa una molla ma usa la gravità. Quel contenitore che vedete in alto alla vostra sinistra veniva caricato con dell'acqua o della sabbia e questo permetteva tramite la forza di gravità di lanciare gli oggetti che c'erano dentro su quella rete che vedete in alto su quel braccio alla vostra destra. Guardate un po' ragazzi questa casa. È colorata. È bella. bella, bella, bella. bella, 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 bella. È certo. È pesa quella lì. È. Pensate ragazzi quella cosa là che molto pesa. non so sembra 150 kg quella lì e si portava la sopra e per lanciare hai mai visto cosa hai visto che è ancora un po' diversa dall'arco eh si è fatto tipo un arco vedi che ha l'arco qui la vedi? eh già se fai così quella lì si fa contro di là e zang gli alberi che avete visto ragazzi si chiamano zampa di elefante e hanno più di 70 anni sono tenuti bene perché vengono quotati continuamente infatti fanno quel tronco enorme che assomiglia proprio alla zampa di un elefante sono veramente belli questo albero ragazzi non l'hai mai visto guardate com'è è grande verano? che bella aria pedonale questo ragazzi guardate soprattutto magari alla sera questo amore guarda che tutto luce è diventata illuminante alla sera bella questo via ragazzi pieno di negozi soprattutto dal corallo guardate un po' questo motorino aolare ma devo dire il corallo ragazzi ora stiamo arrivati alla Mappaldina ora ragazzi si parte con Mappaldina sitten L'amore! 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 Una sera puoi andare a mandare flori per un diretto L'amore! Finch! L'amore! Mésivat! Meskipur! L'amore! Meskipur! Siamo quasi arrivati ragazzi, Paradise Park, a Ressosta Camper Siamo quasi arrivati a Piazza Camper Siamo arrivati da Mirigo Siamo arrivati da Mirigo